Ho conosciuto Maurizio Sacripanti nei primi anni cinquanta. Lo incontravo spesso con addosso un mengomeri bianco, ricordo, in qualche chiesa romana, non perché fosse particolarmente devoto, ma perché, non diversamente da me, era un romano di Roma legato alla sua città da un'appassionata curiosità. All'inizio degli anni sessanta, all'epoca delle proteste degli studenti e delle prime occupazioni, iniziò un periodo di incontri indimenticabili. Nel 61 pubblicai su Comunità e il suo quartiere di Verona, progettato con Moroni, lodandone la compostezza e la misura. E fui, in qualche modo, partecipe del suo passaggio dalla prima fase dell'attività professionale alla fase matura e indubbiamente rivoluzionaria del suo lavoro. Sul Marca 3, la rivista diretta da Eugenio Battisti, di cui era diventato, insieme a Vittorio Gregotti, redattore per la sezione dedicata all'architettura, pubblicammo, nei primi numeri con grande entusiasmo, il quartiere di Bagnoli e il teatro di Cagliari. Era l'epoca in cui allestimo, sotto legge da Di Zevi, la mostra di Michelangelo. Insieme a Renato Pedio e Vittorio Germetti stavamo progettando un happening letterario, musicale e architettonico dedicato ai fatti di Reggio Emilia, primo sussulto di un'Italia avviata ad appiattirsi politicamente all'insegna del compromesso. L'ipotesi condivise da molti era allora quella di riallacciarsi ai temi dell'avanguardia storica, ma quello che mi faceva sentire più vicino a Sacripanti era l'amore per le testimonianze del passato e la convinzione etica che l'architettura è fatta principalmente per servire a migliorare la vita degli uomini. Le idee guida che circolavano erano l'arte programmata, la conquista della quarta dimensione, la memoria creativa, l'opera aperta, il tutto sotto l'influenza determinante della linguistica e dello strutturalismo. Da questo crocevia di percorsi intellettuali nacquero ipotesi diverse, che si svilupparono anche in modo antitetico, ma esistevano, come ho sottolineato, punti di partenza comuni, non privi di significato. Ebbe quindi spesso occasione, seduti intorno ai tavoli da disegno inutili, sparsi allora nelle aule di Valle Giulia, di parlare con Sacripanti dei suoi progetti che ammiravo e di apprezzarne la figura umana, così amichevole e coinvolgente. Più tardi militammo in campi avversi e fu lui a ribattezzare la via Novissima come via Nerissima. Ma questo non ha mai impedito a me, come anche ad Aldo Rossi, di comprendere ed ammirare il suo lavoro, pur non condividendone i principi. Giustamente Luca Canali lo ricorda come un uomo pigro, schivo, sottilmente beffardo, in apparenza semplice e in realtà complesso fino all'indecifrabile. Parlava sempre con una spiccata calata romanesca, usando anche vecchie espressioni dialettali, ma il suo velochio era profondo e inquietante, richiedeva attenzione e riflessione. Usava con compiacimento espressioni ermetiche che costringevano a pensare e ripensare, magari la sera a letto quando non si aveva sonno. Alessandra Montoni ricorda questa frase Sibillina. L'architettura è la protezione della propria sacralità. Su questa ipotesi si potrebbe scrivere un libro, magari andando in direzioni del tutto differenti dal pensiero di Sacripanti, ma non importa. Quello che si percepiva nettamente era la sua religiosità, una religiosità laica, per la quale la divinità si identificava con la vita, la religione della vita. Renato Pedio ci ha lasciato un'indimenticabile testimonianza del suo modo schietto e ironico di comunicare. Alle obiezioni del poeta sulla simmetria sia pura rovesciata dell'edificio di Osac, a due giorni dalla scadenza del concorso, l'architetto rispose, Arena, mo' devo consegnarlo, ma te lo prometto, se mo' fanno fa' lo cambio. Te lo prometto. Pedio era certo che l'avrebbe cambiato, io ho qualche dubbio. La parabola dell'opera di Sacripanti è stata definita da Pedio nel suo libretto del 2000. Inizia con un lungo periodo di preparazione, in cui l'architetto si carica dei grandi insegnamenti ricevuti dall'attualità e dalla storia, dalla frequentazione degli artisti, dei letterati, dei cineasti, dei poeti, ma anche dalla lettura appassionata di testi letterari, di immagini artistiche e architettoniche. Poco di questa carica aveva trovato esito nelle immagini, ma sarebbe servita poi per l'imminente esplosione, di cui sono testimonianza i grandi progetti per Buenos Aires, Cagliari, Osac, Padova, Roma. La parte finale della parabola è una discesa a terra. Sacripanti non è più costretto a disegnare soltanto, ma può costruire i suoi ultimi progetti. La scuola di Sant'Arcangelo di Romagna, la piazza Percheggio di Forlì e il Museo Maccagno, inaugurando una poetica del cemento armato, memore del brutalismo, ma non aliena da finezze e tenerezze. Alla fine di un percorso ideale riesce a realizzare, dopo avercene permessi tanti nel mondo delle idee, un vero capolavoro in carne ed ossa, un ponte, una casa dell'arte alla foce di un fiume che fa eco a distanza di mezzo secolo alla casa sulla cascata di Frank Lloyd Wright. La preparazione dura vent'anni, dal 41, l'anno della laurea, fino al 61, quando a 45 anni Sacripanti progetta il Grattacielo Peugeot. Scusate che ho dimenticato. Questo è sempre il quartiere, questa è l'opera realizzata, Maccagno, e questo è il Grattacielo Peugeot. Una stagione impressionante di forza creativa, in cui espiume compiutamente la poetica della quarta dimensione, dei processi strutturali e generativi, progettando architetture che si sollevano, si smembrano, addirittura pulsano come un gigantesco cuore artificiale, ma soprattutto si danno, si offrono con generosità e invitando a un modo di vivere basato sulle relazioni umane, contenuto supremo delle sue immagini. Non credo che questa esplosione creativa sia comprensibile senza una contestualizzazione della cultura romana di quegli anni. Sono gli anni, non dimentichiamolo, in cui Roma ha acquistato una centralità non solo italiana, ma europea, per l'intensità di alcune opere memorabili che sarebbe troppo lungo elencare. Il progetto per il Grattacielo Peugeot rompe decisamente con il modello miesiano del volume prismatico, non perché ne abbandoni la enunciazione semplice, ma perché ne contesta l'autonomia rispetto alla complessità del paesaggio urbano, del quale diventa invece lo specchio anamorfico. Il dato volumetrico è affermato e contestato da una superficie frammentata e corrosa, in cui ciascun frammento esibisce una sua razionalità, ripetendosi ciclicamente, ma disobbedendo a qualunque regola intuitiva. Per di più, ad accentuare l'aleatorietà dell'immagine, al tessuto si torappongono scritte pubblicitarie, impostate sia in modo orizzontale che verticale. Sembra che le insegne, così presenti nella figurazione dell'ambiente urbano, come scollato dalle strategiche collocazioni originarie, si siano proiettate sul volume edilizio per distruggerne la compattezza e l'autonomia. L'architettura si veste quindi delle forme che meglio esprimono i caratteri di una società in cui domina il valore di scambio e il consumismo sta diventando un fattore centrale. Sacripanti sicuramente già avverte del consumismo il rischio, il carattere inquietante e invasivo, ma ne sente tutta l'importanza come segno dei tempi. Ne avverte la funzione innovativa che rende la città sempre più un nodo di relazioni ad alta intensità. Trasformando la pubblicità in un ingrediente della sua architettura, Sacripanti aderisce fino in fondo a un processo reale che non si sente chiamato né ad assolvere né a condannare, ma piuttosto a capire nella sua logica e a utilizzare in una poetica della vitalità. Lo stesso Heidegger ammoniva che non ci può essere una vera svolta senza riconoscere e subire l'abisso che ci sta accanto. Posto che in genere a questa epoca sia ancora riservata una svolta, questa potrà aver luogo solo se il mondo si capovolge da capo a fondo, cioè se si capovolge a partire dall'abisso. Nell'epoca della notte del mondo l'abisso deve essere riconosciuto e subito fino in fondo. L'abisso non intemorisce un personaggio come Sacripanti, che ama la profondità. Egli stesso parlerà della bellezza dell'abisso che sta in fondo ad ogni cuore, ma più che subirlo, Sacripanti l'abisso vuole percorrerle, vuole servirsi dell'ombra, perché l'ombra può essere utilizzata. Molti anni dopo, nella prolusione del suo corso universitario, Sacripanti dimostra di aver perfettamente capito i rischi del consumismo e della pubblicità che lo nutre. Il mercato, quindi il potere, scrive nella prolusione al suo corso, non chiede dei ricercatori di arte sperimentale, ma chiede al contrario tecnici specialisti e alienati affinché l'esito della ricerca dia i risultati evoluti e più possibile tranquilli e di conseguenza funzionali al sistema stesso. Contro una ricerca sì fatta, per sottrarsi alla massiccia mercificazione non rimane che il gesto negativo. L'architettura che funzioni come un guasto. Il sistema del potere favorisce la non comunicazione. Ed ecco la scienza ridursi a tecnologia e l'arte a mercato e solipsismo. Se il progetto Peugeot è la presa di coscienza di un mondo in rapida metamorfosi, che comincia a rivelare nuovi caratteri, nuove forme linguistiche, la seconda tappa, il progetto dell'ospedale di Domodossola, guarda al futuro, rivendica il diritto di una società e movimento di superare le inibizioni del realismo che pure aveva dato all'Italia un aspettato ruolo centrale nel mondo del cinema. L'architettura deve sollevarsi da terra, mostrare le possibilità della tecnica di sfidare la forza di gravità. Lo sbalzo, quello che Frank Lloyd Wright aveva definito nella sua biografia il più romantico e il più libero di tutti i principi costruttivi, diventa il cavallo di battaglia di una concezione in cui l'architettura non sta più necessariamente sotto il cielo, ma riempie il cielo. Crea trasparenza inedite, commistioni tra l'opero dell'uomo e l'atmosfera, luci e ombre che si liberano nel vuoto. Il modello è l'albero che con l'orizzontalità dei rami si libera dal tronco, ma prima di essere adottato come modello l'albero deve anzitutto moltiplicarsi, trasformarsi in piantagione secondo le regole dell'agricoltura. L'albero deve anche, come quelli dipinti da Mondrian, razionalizzarsi, diventare un albero mentale, diventare edaburi, parola giapponese proposta da Wright per esprimere il concetto di alberità. Nel 1963 Sacripanti torna ad occuparsi di Habitat con il concorso di Bagnoli e lo fa convinto ormai che le esperienze realistiche come quella di Verona non solo non rispondevano alle esigenze di rinnovamento, ma costituivano quello che non si poteva più fare. Erano gli anni in cui Argan aveva scritto un saggio importante che gli architetti avevano letto con grande interesse. Si intitolava Modulo misura e Modulo oggetto. A Bagnoli l'architetto prende posizione a favore del modulo oggetto. Gli oggetti modulari con la loro forma cubica diventano le cellule di un organismo che si forma per aggregazione, per ripetizione e per sovrapposizione. Ne nasce un tessuto di volumi puri che si offrono al gioco delle luci e delle ombre. Si è individuato un sottomultiplo minimo come unità di misura di un reticolo spaziale che è diventato la griglia da cui si è proceduto per la progettazione urbanistica architettonica di tutto il complesso, scrive sacripanti. Questo sottomultiplo, questo modulo che condiziona e risolve tutta la composizione, non è stato estratto come la misura che potesse rispondere a un prefabbricato industriale o che risultasse da un lavoro di questo genere, ma è stato fissato da una cubatura che rappresentando la dimensione della cellula di partenza dell'alloggio si trasforma nella maglia spaziale tipica della struttura. In questa maniera il modulo non è rimasto una invenzione o solo una convenzione tecnologica, ma si è caratterizzato in un oggetto che già di per sé dà nel momento stesso in cui si usa in una determinata quantità la possibilità di intuire sempre l'ordine di grandezza a cui si riferisce. In questo caso la massa costruita non si libra nell'aria ma aderisce a una situazione orografica complessa con forti pendenze e tende attraverso delle combinazioni seriali a creare un tessuto discontinuo in cui nasce un gioco di trasparenze. E' anche sacripanti che scriva che annullano il valore di barriera che dei corpi in linea potrebbero creare, lasciando filtrare luce e paesaggio. Il 1966 è l'anno del progetto di concorso per il teatro di Cagliari, che apparirà nel numero 6-7 del Marcatrini. Un progetto che cresce in se stesso e viene sviluppato dall'autore anche dopo il deludente esito finale del concorso. Più che assolvere il compito di offrire a una città una inedita macchina teatrale, il progetto si presenta come il manifesto di una rivoluzione radicale dello spazio teatrale, basata sulla convenzione della parete di cristallo. Dell'organismo teatrale viene messo in discussione tutto, la divisione anzitutto da platea e palcoscenico, la collocazione frontale della scena, il contrasto tra una zona plasmabile in mille modi diversi, come quella appunto del palcoscenico, e una zona immutabile in cui si ripete all'infinito lo stesso rito del pubblico di spettatori. Il modo in cui questa rivoluzione si compie è quella di concepire lo spazio teatrale con incredibile capacità visionaria, come qualcosa di elastico, posto tra l'incudine e il martello. Due superfici, un cielo e una terra, che un sistema metanico consente di modellare a piacimento, perché suddivise in tanti prismi, dei veri e propri pixel in cui l'immagine si scompone, che possono salire e scendersi e fermarsi dove a volta a volta si decide di fermarli, per poter creare un luogo di rappresentazione basato sulla frontalità, o un palco centrale posto tra due pialdee, o una pianta tra due palchi, o addirittura un unico spazio in cui spettatore e attore convivano. Come molti anni dopo Ronconi riuscirà a fare a Milano, in Piazza del Duomo, con lo spettacolo dell'Orlando Furioso, smembrandone la rappresentazione in episodi fruibili in contemporanea da gruppi diversi di spettatori. Il progetto, a quanto sembra dalle immagini conservate, bellissime fotografie eseguite in parte da Oscar Savio, ha avuto diverse fasi di elaborazione. L'involucro originario era un volume prismatico, disegnato con grande eleganza, ma che comunque racchiudeva la macchina, separandola nettamente dallo spazio esterno. Nella seconda versione, la scatola, seguendo una suggestione raitiana, continuamente ripresa da Zevi, si scompone. Anzi, non si accontenta di scomporsi in lastre, come aveva fatto Mies a Barcellona, ma viene smaterializzata. Si trasforma in una rete filtrante, suggerita attraverso un plastico scultoreo, che manifesta chiaramente la volentà di estendere il sistema flessibile all'interno, all'interno, al volto esterno dell'edificio. La terza tappa poteva essere la trasformazione del teatro in città. E l'ipotesi, formulata da Sacripanti per il Ponte di Messina, come un traliccio che invade il paesaggio e si offre con i suoi spazi a un'infinità di possibili usi, come le fronde di un albero offrono una trama per i nidi degli uccelli, non è che un'estensione all'infinito della sua idea di teatro. Teatro della vita è quindi mobile, flessibile, soggetto alla potente attrazione della terra e del cielo. Dobbiamo ringraziare Sacripanti di aver continuato a progettare, anche dopo la sconfitta, un consolatorio secondo premio, perché ci ha consegnato la storia di un'utopia operante nella sua virtualità contagiosa e illimitata, partendo da un nucleo ben definito per spaziare sempre al di là del possibile o addirittura del concepibile. Il mio progetto di Dica è nato nel 68, la città che si forma ascoltando i desideri dei cittadini, doveva molto, lo confesso, il progetto di Sacripanti, anche se voleva garantire utopia nell'utopia, la partecipazione creativa dei cittadini e la pluralità linguistica. Il progetto del Teatro di Caglia riportò Sacripanti sulla scena mondiale. Apparve come un modo di continuare la ricerca di Gropius sul total theater, nel clima che si era creato negli anni Sessanta, di fiducia nelle possibilità estreme della tecnologia creata dalle emogene proposte da Iona Friedman, dalle ricolle, da Corrad Waxman, da Frey Otto. E la cultura italiana aggiungeva, con Sacripanti a questa fiducia salvifica nella tecnica, un istintivo rispetto per l'armonia e la bellezza della forma plastica. La ricerca di nuove specialità è andata avanti, anche in questi ultimi decenni, anche se al rigore e all'ispirazione etica, si è spesso sostituito l'arbitrio individuale, l'autoreferenzialità e la spettacolarità affine a te stessa. Molti giovani però si rivolgono oggi a Sacripanti per recuperarne il rigore e la vastità di orizzonti, in cerca di un metodo. E dobbiamo ringraziare architetti come Alfonso Giancotti, Maria Luisa Neri, soprattutto Franco Purini e Laura Termes, per la loro battaglia in atto per non dimenticare Sacripanti. Dobbiamo ringraziare anche l'Accademia di San Luca, dove abbiamo visto questa meravigliosa sistemazione digitale che consente a chiunque, in tutte le parti del mondo, di leggere le immagini di Sacripanti senza difficoltà. Nel 1966 partecipa al concorso per la Camera dei Deputati. Da costruirsi accanto alla fasciata di Montecitorio di Ernesto Basile, che i romani avevano definito con intelligente ironia il croccante. Il concorso vedeva schierate tre diverse generazioni e rispecchiava le tendenze che si erano sviluppate in quegli anni. Muzio, Samonà e Quaroni, insieme a muratori, che giocava in sordina con i suoi allievi, rappresentavano la generazione dei maestri. Sacripanti, la generazione di mezzo, il Grau, Nino Dardi, Manieri, Bonfanti, le ultime generazioni che si affacciavano senza timidezza nell'arengo dell'architettura di allora. Il concorso si concluse con un niente di fatto e un rimborso spese per ben 14 progetti, messi tutti sullo stesso piano. De Angelis Dossat, di cui in quel momento era assistente, mi disse che la commissione di cui faceva parte, insieme a Pierluigi Nervi, si trovò d'accordo nel non assegnare premi perché i progetti migliori avevano tutti la febbre a 40. Quello di Sacripanti, insieme a quello del Grau, era sicuramente il più clamoroso e più lontano dalle aspettative moderate della commissione. Portava avanti la intuizione di Domodossola, di un'architettura che si attacca, si stacca dalla terra, si imparenta con le nuvole e punta sul gioco delle trasparenze, un'architettura di piloni e di punti, imparentata con le carceri di Piranesi, ma anche con le ardite ipotesi di Kenzo Tang e della città pensile sul mare. Come vedremo nel progetto per il Museo della Scienza, l'aspetto più originale che lo distingueva dagli altri era l'imprevedibile interesse per l'aggregazione di cellule secondo schemi simmetrici, di evidente fascino decorativo, da mettere in relazione forse con le ricerche contemporanee di Frey Otto sulle cellule componibili. Si può pensare che l'architetto avesse percepito la tendenza delle macchine a cambiare radicalmente morfologia e volesse esprimere un macchinismo aggiornato che traesse origine da uno sguardo curioso e indiscreto all'interno dei grandi computer, degli apparecchi della comunicazione, i fili intrecciati, i circuiti stampati con le saldature brillanti, i transistor, i primi led puntiformi e quell'universo magico che appariva allora particolarmente seducente quando si entrava negli anclai delle grandi banche. Il tono della ricerca è dato dalla relazione, che parla con insistenza del rapporto con Roma. Il progetto vuole aderire alle tensioni di una realtà evolvente, dinamica, funzionale e meccanica. Propone nuove strutture, materie e figurazioni nel senso che sono implicite, spesso attive nella nostra vita e cultura. Sono parole di Sacripanti. Come sempre conquistando un'immagine aperta, tesa e aggiornata, si recupera l'eredità fondamentale del passato. Applicando in pieno prefabbricazione, automazione, aggregazione e connessione abbiamo ritrovato l'energia e la tessitura spregiudicata e risonante di Roma. Tafuri, all'esordio in veste di critico autorevole del presente, non si occupa tanto di capire, ma applica con furore la critica giudiziaria per giungere alla famosa conclusione che paragona il progetto a una punk sculpture, una scultura fatta di rifiuti. La distruzione della forma è totale, scrive Tafuri. L'osservatore è immesso violentemente in un'orgia di spazi esplosi, di oggetti ammassati e violentati, di vuoti allucinanti. La tecnologia, enfatizzata da Sacripanti, è il prodotto di una mistura benefica, non di una balsamica distillazione. Essa penetra la forma architettonica sconvolgendola, riducendola ad un ammasso di cose private di ordine e lanciando l'architetto di fronte ad una ossessiva montagna di rifiuti che, malgrado tutto, egli tenta di organizzare. A rileggerlo oggi, questo scritto, a distanza di mezzo secolo, qualcosa non torna. Il critico ha evitato lo sforzo di capire quanto c'è di aleatorio e di ironico nel progetto, attribuendo all'autore una forma di nichilismo, lontano milleviglia dalla gioiosa parata di sbalzi, di punti, che danno conto di una lettura personale della città e mettono in rilievo la disordinata bellezza di molti dei luoghi più segreti di Roma. Il portico d'Ottavia, la salita del Grillo, la rampa dei Savelli, sull'Aventino, l'arco della Ciambella, l'arco di Druso, le situazioni spaziali imprevedibili e surreali formate dai cavalcavia che uniscono i palazzi, dai rudini che mettono fuori scala il tessuto edilizio. Così l'affettuosa ironia e il candore vengono scambiati per una volontà distruttiva. A distanze di parecchi anni, nell'89, Sacripanti insiste sull'ironia. Inventai questo luogo finto per persone finte. Profetico. Però a rivederlo a posteriore di questo apparente gioco di oggetti che restano come sospesi tra il Carnevale e la Quaresima, non era proprio male, era ironico. Ancora una volta l'autocritica batte la critica di molte leghe. Siamo arrivati così al 68, i studenti si asserragliano nell'università e mimano una rivoluzione che la classe operaia guarda da lontano con indifferenza. Sacripanti partecipa al concorso per il patiglione dell'Expo di Osaka, inventando un'architettura semovente che pulsa come il cuore di un animale, dotato di un sistema circolatorio. Ricordo forse di un pantheon messo in moto, dove la cupola diviene un sistema di lame in bilico e le murature sembrano trasparenti. Ricordo forse della capanna e della tenda. Certo della cupola che Sacripanti ricorda continuamente nei soscritti come uno dei capolavori assoluti dell'attività edilizia dell'uomo. Di certo il progetto esprime con chiarezza la volontà di riscoprire uno spazio del tempo, dove l'ombra frantumata, non più statica, lascia il cielo elusivo ed abitabile insieme. Acciaio e plastica gli consentono di creare un fantastico orologio, un meccanismo preciso e nello stesso tempo mutevole, un inno alla mutevolezza programmata. La struttura divisa in due parti, inversamente simmetrica, è costituita da una serie di anelli di acciaio che crescono progressivamente di dimensione, come avviene nelle conchiglie. scusate. Ho dimenticato le immagini. Eccoci. Acciaio e plastica gli consentono di creare un fantastico orologio, un meccanismo preciso e nello stesso tempo mutevole, un inno alla mutevolezza programmata. La struttura divisa in due parti da una serie di anelli di acciaio che crescono progressivamente di dimensione, come avviene nelle conchiglie. I cerchi poi sono collegati da veli di plastica traslucita. Non mi sembra possibile che Sacripanti non abbia osservato e studiato il celebre epitomnium scalare, una conchiglia a un tempo rarissima che Caterina di Russi acquistò per una somma incredibile e che ora si può acquistare anche nelle baccarelle di Porta Portese. Una conchiglia in cui il guscio è ritmato e irrigidito da una serie di anelli che diventano sempre più grandi verso l'orifizio. Sacripanti accosta in senso inverso di crescita due volumi in tutto simili a due conchiglie del genere. Colloca tra l'una e l'altra due scale a chioccio e crea per il raccordo a terra una doppia superficie conica. La sfida si rivolge direttamente a un edificio mitico, anch'esso dotato di parti mobili, il monumento della terza internazionale del 1919, l'anno della rivoluzione d'ottobre, e del quale proprio nel 68 era stata realizzata in Svezia la prima ricostruzione postuma. L'edificio, immaginato da Tatlin, conteneva all'interno quattro volumi rotanti destinati ad ospitare le più importanti istituzioni statali. Un cubo, una piramide, un cilindro e una semisfera, inseriti uno sopra l'altro in mezzo a una struttura metallica elicoidale alta 400 metri, il cui asse era inclinato come l'asse di rotazione terrestre. Ciascuno dei volumi ruotava con velocità diversa. Il cubo doveva impiegare un anno per compiere una rotazione completa, la piramide un mese, il cilindro un giorno e la semisfera un'ora. La simbologia cosmica era evidente ed anche il riferimento alla biblica torre di Babele, solo che il significato doveva essere l'opposto di quello biblico. La torre doveva rappresentare non l'Ibris, la sfidante dismisura, ma la incontrastata vittoria dell'autonomia dell'uomo da qualunque entità superiore. Sacripanti non si preoccupa troppo della differenza tra il clima post-rivoluzionario e quello dell'Italia di allora. Il compito era quello di mostrare in Giappone l'immagine di una società che si era voluta lentamente, senza scosse e rotture, che comunque era in movimento, un paese che era diventato una potenza industriale, in via di sviluppo e ospitava un manipolo di intellettuali tutt'altro che ossequenti ed allineati. D'altra parte le dimensioni del patrimonio pensato per Osac erano in scala con l'Italia del tempo, 35 metri di altezza, un percorso affascinante all'interno di una specie di strumento musicale, una cornamusa o una fisarmonica racchiusa in teli di plastica, con un involucro capace di muoversi, dilatarsi e contrarsi, una sorta di accompagnamento e di stimolo al flusso musicale dei visitatori. Una specie di apparato digerente, forse, e ce lo potrebbe spiegare molto meglio, Franco Purini, che ha tracciato di suo pugno le formidabili prosettive chiaroscurate, di cui anche Sacripanti parla a lungo in una sua intervista. Nelle grandi espò che si sono succedute nel tempo dopo Osac, abbiamo visto negli ultimi decenni padiglioni di ogni forma e dimensione, oggetti sorprendenti, fatti per attrarre e stupire, ma la piccola chiocciola di Sacripanti, simile a un animaletto, a una lumachina forse, o piuttosto a un gioiello, a un amuleto, mantiene senza dubbio ancora il primato della eleganza, della organicità, della accattivante bellezza. Sempre nel 68, scusate, ogni tanto dimentico le immagini, ecco questa è la famosa prospettiva dall'alto, Sacripanti racconta che lui non sapeva come rappresentarlo e fu Purini a suggerire come il modo giusto di vederlo, quello di vedere questo oggetto dall'alto. Sempre nel 68, Sacripanti ci menta a Padova, per la prima volta con il tema congeniale del museo, congeniale perché nel mondo dell'arte il contrasto tra futuro da anticipare e il presente in cui inserirsi, uno dei grandi temi del suo disagio, si attenue e sparisce. Il tema è quello di plasmare uno spazio o altro, lo spazio dell'arte intesa come conoscenza, ma anche come libera espressione dell'inconscio. Il progetto nasce in aperta polemica con l'idea stessa di museo come luogo di contemplazione e di conservazione. Il museo non deve quindi essere un rispettoso scrigno neutrale in cui ciascuna opera possa coltivare la propria autonomia, un luogo del silenzio in cui ogni opera parla di se stessa, ma al contrario, una macchina suggestiva in sé in cui le opere entrano ciascuna a suo modo in un contenitore tra la forza travolgente. Opere, pensate quasi sempre per stare dentro uno spazio architettonico, avrebbero così ritrovato a suo modo di pensare una postura più simile a quella originaria. Il rischio diventa così quello di passare dal silenzio a un rumore assordante, o meglio forse una musica elettronica che mette in agitazione il pensiero anche se fa male alle orecchie. A parte il problema espositivo, dal quale si poteva ovviamente dissentire, ma che avrebbe comunque ricevuto una soluzione di grande interesse, l'immagine architettonica era estremamente rigorosa e coerente. La struttura metallica godeva di una visibilità integrale da ogni punto di osservazione, poiché non vi erano suddivisioni tra spazi interni. L'uso di elementi tubolari inclinati avrebbe creato un insieme di cellule esagonali, da un continuo spaziale variabile, controllato per mezzo di cellule e di sensori per quanto riguarda l'intensità luminosa e le caratteristiche ambientali. Una macchina per esporre che avrebbe trovato un'altra imprevedibile consonanza in quell'arte dell'happening e dell'attestimento che ha preso consistenza poi negli ultimi decenni. Negli anni settanta Sacripanti affronta il tema della Chiesa a Partanna con un progetto di cui bisognerebbe, per comprenderlo a fondo, realizzare una ricostruzione digitale che ne consenta una lettura visiva. Dagli segni rimane impresso nella memoria il tema dei cerchi concentrici disegnati dalla intersezione di una sfera con due serie ortagonali di setti sorgenti da terra. Ne deriva uno spazio colto allo stato germinale, enunciato nella sua assolutezza, che mette in contatto un sotto tenebroso con un sopra inondato dalla luce che filtra tra un cerchio e l'altro. E' trasformato in uno spazio percorribile, in una emozionante ascesa, affermata e negata, come cosa nello stesso tempo possibile e impossibile. Forse una metafora della fede, in cui ancora una volta ombre e luce entrano in insanabile contrasto. Viene in mente quello che Sacripanti affermava a proposito della nascita del progetto. All'inizio il progetto non è che un embrione, non ha niente, non si fa disegnare, poi gli vengono le labbra, gli occhi e a poco a poco questo embrione si forma, nasce bene, nasce completo. La stessa immagine riappare in uno degli ultimi progetti. Il monumento alla pace del 74, progettato per lo scultore Pastroianni, in cui il dialogo tra l'espressione plastica della scultura e l'architettura ha qualcosa di magico. Noi vediamo formarsi un imprevedibile accordo tra due modi contrastanti di trattare la materia, che pure generano una reciproca sussidiarietà. Con il progetto per il Museo della Scienza da realizzare a Via Giulia, Sacripanti si confronta con l'antico e dimostra quanto complesso, intenso, contraddittorio sia stato per lui il rapporto con la tradizione. Fatto di amore, di reverenza, ma anche di reciproca intoccabilità, come se veramente il tempo separasse per sempre, attraverso distanze incolmabili, quello che si deposita sulla terra. Tutto questo vivendo in una città come Roma, in cui i tempi si intrecciano, si sovrappongono, si mescolano e le forme continuamente riappaiono, rinascono identiche e nuove, così come è avvenuto nei rinascimenti che si sono susseguiti nei secoli. Per me l'antico esiste solo perché vado al museo, non perché amo l'antico, afferma Sacripanti polemicamente, a proposito del progetto di Forlì. Ma poco prima aveva affermato, nella mia produzione ho sempre cercato di recuperare la memoria antica e riordinare gli stimoli dell'inconscio. Oppure, se ariamo il passato scopriamo nel tessuto apparentemente unito dei tempi improvvise fatture, distanze dove spazio e tempo si impennano, lasciandoci alle spalle quanto non serve più. Nel fluire cala ossigoagula un filtro, oltre le scorie consumate procede l'origine del fluire ed il segno dei simboli è mutato, è nato un futuro. O ancora, progettare, aveva scritto Sacripanti, e oggi anche proporre un tipo di simbiosi tra passato e futuro. Il passato, la nostra cultura, la tessitura di ogni riferimento vivo, il futuro, la nostra molteplicità. Non meno significativo del rapporto creativo con la storia sono le osservazioni entusiaste sul tema della cupola. La cupola ci riconduce all'origine, ci riconduce ai geni, ai segni primordiali del positivo e del negativo. Il progetto di Via Giulia è rimasto sulla carta per la mia ostilità delle sovrintendenze, ma al di là di ogni esteriore ripulsa per una pretesa estraneità rispetto all'antico, esso è la dimostrazione di una volontà di connessione, di armonia, non solo e non tanto con l'ambiente, con gli edifici confinanti, quanto con lo spirito della città, con il genio sloshi. Naturalmente il progetto va letto più che come un insieme di pareti e di strutture, come un insieme di spazi. Osserviamo la faccia verso Via Giulia. Non la chiamo facciata per non offendere la versione teorica dimostrata da Sacripanti verso questo elemento dell'architettura. Sacripanti si accorge anzitutto dell'importanza della quinta costituita dal carcere di Antonio del Grande, uno degli esempi di semplicità barocca. Ne continua per un tratto la scesura orizzontale creando una dichiarata parentela, anche con l'inclinazione della parete. E scegliendo poi per il corpo di fabbrica un'altezza minore che lascia al vecchio edificio un ruolo dominante. Il muro che realizza questo rapporto si conclude subito con un grande squarcio, un invito a entrare, che non rinuncia certo a porsi come grande episodio plastico che rompe la continuità della quinta stradale e si associa agli altri episodi monumentali che ritmano il percorso stradale. Il giardino di Palazzo Farnese, le chiese, il Palazzo Falconieri, i frammenti bravanteschi del Palazzo di Giustizia di Giulio II. Sacripanti immagina l'ingresso come il negativo di una cornocia classica. Capisco la contrarietà e la difficoltà ad accettare questa mia indicazione da parte di chi vede in Sacripanti il nemico di ogni citazione, ma bisogna riflettere sul fatto che lui stesso parla indirettamente di questo tema. Leggiamo la sua biografia. Di Fenni, buono orafo, scoprì la materia, le pietre, il significato antico dell'oro, scoprì le osterie e le prostitute, disegnavo, imparavo l'arte del calco, conobbi il modano e le sagome antiche, una vecchia arte in una vecchia città. Ancora in un altro testo, nel libro La memoria, la città e lo spazio, l'ombra, rimbalzo dell'opaco, trova un nuovo interlocutore nel cornicione, una scultura nell'aria. Ecco, questa è la chiave che giustifica la mia indicazione, la scultura nell'aria. Cos'è il modano? Si chiederà a qualcuno. Il modano altro non è che quel regolo di legno che si usa per tirare le cornici di stucco con le loro modanature. questo è un disegno di Michelangelo. Il confronto tra il profilo del muro che chiude la grande parete vetrata e la vetrata stessa, una scultura virtuale di ferro e vetro che plasma lo spazio e divide l'interno dall'interno e i disegni di Michelangelo. Quello che mostro adesso è proprio la sagoma di carta che serviva incollata sul modene per tracciare le sagome. Ecco qui, questa immagine chiarisce molto bene l'idea di questo spazio plasmato che diventa appunto scultura dell'aria. L'architetto ha disegnato di sua mano non una sola volta ma in una decina di disegni diversi di cui forse questo è il più espressivo. Qui veramente il senso della modanatura si riconosce e più ancora di Michelangelo direi che fa Capolino Borromini. Naturalmente se in questo aspetto che riguarda l'accoglienza dei visitatori e la presenza nella immagine urbana l'architetto ha dimostrato, oltre al ricordo più o meno inconscio della modenatura, la sua sensibilità e perfino la sua discrezione, il progetto si sviluppa poi in modo autonomo, così da creare nel cuore della città uno spazio di incontro, un sistema di piazze, un museo inteso come spazio di vita dedicato ai flaneu, strumento didattico e di intrattenimento piuttosto che esibizione di cimeli. La prospettiva del Gianicolo dimostra questa intenzione di disegnare un pezzo di città tenendo conto di tutte le esigenze pratiche che possono nascere dall'inserimento nel centro storico di una funzione culturale, ma anche delle esigenze psicologiche di poter passare dallo spazio univoco, prospettico, vincolante e unedirezionale di Via Giulia a uno spazio vettoriale, colto nel suo momento generativo, uno spazio per un modo di incontrarsi e di stare insieme, tutto da inventare. Non so se in modo cosciente o inconscio, Sacripanti rievoca qui non tanto la struttura interna di una macchina, quanto i meccanismi degli strumenti musicali. L'analigia con i martelletti di un pianoforte fa capire che il macchinismo di Sacripanti non è più quello arcaico, rigido e stridente, delle ruote dentate, ma un macchinismo sottile che fa pensare a Duchamp, soffice e allusivo, che nasce dalla liberazione della macchina dalle sue morfologie tradizionali. Sacripanti aveva captato, come abbiamo notato nel progetto per Montecitorio, l'avvento e la imminente diffusione della morfologia digitale, con i suoi interni filamentosi, i suoi transistor sporgenti. All'interno il museo si presenta in una forma che direi piranesiana, con spazi intrecciati e labirintici, ma attraverso un rovesciamento di valori, facendo prevalere la luce sulle ombre, trasformando le pesanti superfici voltate in cupole trasparenti e sostituendo alla ostentata gravità la aerea e leggerezza ottenuta, allontanando dalla vista dell'osservatore i sostegni verticali, in modo che la struttura appaia sospesa come un cielo nuvoloso. L'esperienza di Sacripanti si compie negli ultimi decenni del secolo con tre opere realizzate, che segnano nel loro complesso la discesa a terra, non più progetti che sfidano la realizzabilità. Sacripanti è costretto, come Rimbaud, ad abbracciare la rugosa realtà. I progetti per Forlì però ce lo mostrano ancora, lancia in resta a sfidare il buonsenso e la pigrizia del potere istituzionale. La scuola di Sartarcaggio di Romagna, che vedete, ci mostra un Sacripanti alle prese con un edificio di piccola taglia, lontano dalla grande dimensione con cui si era cimentato gloriosamente. L'architetto affronta il problema con la consueta radicalità, ma si scontra poi con la realtà della scuola italiana, che ben raramente ha affrontato il tema di sperimentare la contestazione delle consuete divisioni spaziali. La struttura è simile a quella dei grandi progetti, due setti lineari, lunghi 30 metri, fuori terra tre cui si agganciano in alto e in basso quattro travi di cemento armato e reticolari d'acciaio, scrive Giancotti. In questo modo al piano terra si sviluppa una grande piastra mentre sopra il corpo delle aule si presenta come un potenziale spazio unico, diviso da pareti mobili che slittano in alto e in basso, e basse paretine ripiegate al libretto. Questa plasmabilità dello spazio interno con i diaframmi mobili porta avanti la proposta di Ritfeld della cassa Schroeder e la estende alla fruibilità di alcuni spazi che potranno, potrebbero, sarebbero potuti diventare spazi collettivi a disposizione della città. Tuttavia l'elasticità dell'impostazione planimetrica rimane poco utilizzata, l'espansione progettata non viene eseguita e col tempo l'inserimento di un padiglione davanti al fronte principale di fruizione, ha distrutto l'eleganza della volometria così evidente nella visione notturna, originaria. Nell'interno rimangono i dettagli, l'impostazione cromatica basata sull'opposizione tra bianco e rosso, le finestre ad occhio che propongono al bambino l'ideale viaggio alla scoperta del mondo. Ho disegnato, plasmato, meditando sul bambino, scriveva Sacripanti, sulla misteriosa età puberale che scindendo i sessi sdoppia l'ermafrodito avviandolo alla ricerca di sé. A Forlì finalmente Sacripanti vince il concorso, ma perde poi il secondo round, quello della realizzazione di un progetto che è ambizioso e polemico. Di fronte all'ostinazione di chi vede il passato come qualcosa da custodire e isolare, racchiudendolo in sé, Sacripanti include un monumento di un pezzo di città nuova. Trasforma una chiesa, un chiostro in un teatro, non accostando il nuovo all'antico, ma facendoli convivere, come avviene di fatto nella città. Zevi aveva predicato l'urbatettura che Sacripanti realizza non attraverso il disegno urbano, ma attraverso la contaminazione, la compenetrazione, l'annientamento della distanza storica e, diciamo, l'identificazione del edificio con la struttura urbana. La navata della chiesa diventa palcoscenico. La platea, con la sua inclinazione stabile, occupa il vuoto del chiostro, mentre il soffitto, sia dello spazio scenico che della sala, è fatto come nel teatro di Cagliari, di prismi scorrevoli che plasmano lo spazio e proiettano la luce. Frammenti del chiostro rimangono visibili e si mescolano agli altri ingredienti in modo visionario, come in una einsteiniana dissolvenza incrociata. La platea inclinata diventa una scalinata barocca. Il soffitto unifica platea e palcoscenico, mentre le colonne e gli archi del chiostro dialogano a distanza in un gruiglio di scale ascendenti. Il progetto realizza solo in parte l'atmosfera onirica degli schizzi, che sono tra i meno belli, tra i più aspri, ma anche tra i più rivelatori dell'immaginario sacribantiano. Il progetto del teatro comprendeva la realizzazione di una piazza e di un grangio e parcheggio sottostante, che venne realizzato non completamente, mentre continuavano le infinite discussioni sulla opportunità di realizzare la provocatoria macchina teatrale. Il parcheggio scatenò a sua volta reazioni contrastanti e se ne propose ad un certo punto perfino la demolizione. Il paradosso è che Sacripanti, abituato a considerare il sopra e il sotto, l'ombra e la luce in continua dialettica, ha qui l'occasione di poter elaborare un sotto senza poter elaborare un sopra, per cui la pianta superiore rimane un vuoto, la piastra superiore rimane un vuoto su cui galleggiano gli antichi edifici che appaiano come sradicati, mentre il sotto si trasforma in un affascinante criptoportico, rivelando ancora una volta come l'inconscio dell'architetto sia ricchissimo di memorie assimilate. Certamente è riuscita la caratterizzazione plastica del limite della piastra con lo sbalzo dei setti paralleli che dialogano con gli archi rovesci e le mensole e riovicano ancora una volta il profilo della cornice classica. Sacripanti riceve nel 1977 l'incarico di costruire il Museo Parisi, per il quale continuerà a lavorare fino agli anni della morte. Finalmente non richiede verifiche da parte di committenti e fruitori perché è destinato ad ospitare il mondo dell'arte e quindi il mondo delle ipotesi aperte e imprevedibili che Sacripanti aveva sempre teorizzato. Qui non si ripete l'esperienza del Museo di Padova che costringe l'arte a confrontarsi con la prepotenza della struttura. Gli spazi interni sono liberi, bianchi, flessibili perché protagonista dell'architettura è il suo rapporto con la terra e con il cielo, con il paesaggio. Il ponte dalla parte della foce non si accontenta di attraversare il corso d'acqua che tra l'altro è ritmato dalle briglie che si succedono continuamente ma si solleva a scarti verso l'alto per accordarsi con un sistema di scale che vincono il dislivello tra le rive simulando un movimento di crescita mentre a monte si profila netto come semplice connessione tra le due rive attraversato da una fessura continua plasmata ancora una volta come il negativo di una cornice che si spinge ad accogliere e proteggere. Lo skyline è definito da un proliferare di volumi che si percepisce in tutta la sua complessità solo nelle visioni da lontano e dall'alto. Si tratta prevalentemente di prese di luce che generano spazi ben differenziati all'interno di un continuum che ancora una volta ripropone il tema dello spazio stratificato e pulsante sotto una copertura mutevole. Il là alla sequenza spaziale è data dalle finestre a nastro inclinate che da una parte invitano lo sguardo allo spettacolo dell'acqua scorrente e nella piccola corte interna materializzano la luce nell'ambiguo involucro geometrico delle lastre riflettenti. Coraggiosamente Sacripanti si confronta con il capolavoro di Wright come dimostra l'affaccio della terrazza sul fiume. D'altra parte le briglie che costringono il fiume a piegarsi a salti non simulano in fondo una stratta cascata così il museo Parisi può essere visto come il museo sulla cascata differenziandosi dal modello sia per la destinazione pubblica sia per il confronto con una natura non più selvaggia ma dominata dalle mani dell'uomo. Il respiro gioioso di quest'opera finale la sola che possa considerarsi un vero capolavoro in carne ed ossa sta soprattutto nella stupore con cui l'architetto dimostra di aver accolto una grande occasione scritta nel suo destino. Il museo infatti offrì all'architetto costruttore di punti metaforici che uniscono punti di appoggio la possibilità imprevedibile di realizzare un vero ponte che unisce due rive non solo attraverso una strada ma più saldamente con uno straordinario organismo staziale con un pezzo di città. Il ponte, ha scritto Heidegger, è lo slancio oltrepassante, si slancia leggero e possente al di sopra del fiume. Esso non solo collega due strade già esistenti, il collegamento stabilito dal ponte anzitutto fa sì che le due rive appaiano come rive. Esso porta il fiume e le rive e la terra circostante in una reciproca vicinanza. Il ponte conduce su e giù gli itinerari esitanti o affrettati degli uomini, permettendo loro di giungere sempre ad altre rive e da ultimo passare come mortali dall'altra parte. Prima che il suo ponte fosse finito Sacripanti se n'è andato e ci ha lasciato un'eredità che è il nostro compito non sotterrare solennemente ma cercare, sciogliendo ognuno la parte che gli spetta, di mettere a frutto. La parola stessa di ponte, diceva Maurizio, è carica di sacro. Si varca un rigagnolo o si supera il guado tra vita e morte. Ponte allude a oltre.